Ciao a tutti sono Gio Vanni e volevo fare un'osteria e quindi cercando il nome di questo localino mi è sembrato simpatico metterci una posta per fare Gio Osteria nel centro storico di Torrida. Qui mi diverto a fare una cosa importante cioè la cucina che è una delle mie più grandi passioni. Questa cucina che nasce assolutamente dal mio piacere per il mangiare buono, per il bere e chiaramente cerco di riportare nelle mie ricette, nelle mie petanze, tutto ciò che è la tradizione toscana con un pizzico di fantasia da dove e quando mi viene, ma rifacendomi alle ricette tipiche che ho imparato dalla mamma, dal babbo, dalla nonna.